Ed ecco le cinque preghiere nella cattedrale di Chartres che leggerà Matteo. O Regina, dopo un lungo cammino e prima di prendere la via del ritorno, nel cavo della tua mano è il solo rifugio, giardino segreto, dove l'anima sboccia. Ecco il forte pilastro e la volta che sale, l'oblio per ieri e l'oblio per il domani, l'inutilità di tutti i calcoli umani. Più del peccato è la saggezza a mancare. Ecco l'unico luogo dove tutto è facile. La partenza e il rimpianto, ogni avvenimento, l'addio del momento e l'eterno abbandono, l'unico luogo dove tutto è semplice. Anche questo vecchio cuore ribelle, questa testa bianca e i suoi pensieri, queste braccia indurite in caserma e questa bimba che si fa troppo bella. La bimba che si fa troppo bella non è una bimba ma è questa ragazza di cui lui è innamorato. Però in questi versi che abbiamo letto trova la pace. Nel cavo della tua mano è solo rifugio. È l'unico luogo dove tutto è facile e dove tutto è semplice. Ecco l'unico luogo dove tutto si fa chiaro. Questa testa canuta, fontana di lacrime. Queste braccia indurite dal mestiere delle armi. L'unico luogo dove tutto è abbracciato. Tutto ciò che altrove è lunga abitudine. Seduto al focolare, la testa tra le mani. Tutto ciò che altrove è spoglia solitudine. Qui è viva gemma, pronta a germogliare. Tutto ciò che altrove è disfatta, seduta al fuoco, i pugni alle ginocchia. Qui è solo tenerezza e sollecitudine di due braccia materne, tese verso di noi. Una piccolissima notazione, Peggy dell'annunciazione che abbiamo davanti dice l'ultima e la maggiore delle profezie. Vedete com'è? È vero? Regina degli Apostoli Ce ne hanno dette tante Non sopportiamo più le inutili parole Non abbiamo più altari se non i vostri Non sappiamo che è una semplice preghiera Siamo scampati a profondi naufragi Da non desiderare più altri bastimenti Alla fine dei nostri anni siamo tornati Alla tua santa casa E a te Unica stella Non sopportiamo più le inutili parole Non abbiamo più altari se non i vostri Non sappiamo che è una semplice preghiera Ce ne hanno dette tante Non vogliamo più sapere altro che questo amore profondo Non chiediamo che il grano macinato Ritorni nel cuore della spiga Né che l'anima errante e solitaria Trovi quiete in un giardino fiorito Non chiediamo che il grappolo pigiato Si è rimesso sopra il pergolato Né che il calabrone e la giovane ape A sera ritornino a saziarsi di rugiate Regina del mare e dell'illustre porto Nulla chiediamo con questi emendamenti Solo Tienici sotto i tuoi comandamenti E in una fedeltà più forte della morte Meghi è l'uomo del domani vedete Dice chiaramente Niente può tornare indietro Non guardiamo Vorrei tornare quando ero Quando facevo questo Quando facevo quell'altro No Guarda in avanti Dice Mi basta stare sotto i tuoi comandamenti Mi basta esserti fedele Con una fedeltà più forte della morte Abbiamo perso il gusto per le armi Regina dei trattati e dei disarmi Abbiamo perso il gusto per le lacrime Regina dei dolori e delle sette spade Siamo infelici soldati giramondo Marciamo sempre dritti e fieri Siamo questa chiesa salda e unita Generazione intima e profonda Non chiediamo più i beni che periscono Non cerchiamo più le tue buone grazie Cerchiamo solo il tuo illustre onore Non costruiremo più sopra la sabbia Non sappiamo più ciò che ci hanno letto Non sappiamo più ciò che ci hanno detto Conosciamo solo una volontà dall'alto Conosciamo solo il tuo comandamento E fondi su questi quattro bambini Le tue grazie di tenerezza e protezione Intreccia sulle loro fronti O regina del grano Nella festa del raccolto Le spighe più pure È un ritornello che da quando l'ho tradotto non mi lascia Abbiamo perso il gusto per le armi Regina dei trattati e dei disarmi Abbiamo perso il gusto per le lacrime Regina dei dolori e delle sette spade Peghi è un soldato Peghi è un riservista È uno che lo chiamano e va per difendere la propria patria Ma scrive queste cose E poi arriviamo al finale Questi bambini sono i suoi bambini E poi questa Blanche avrà da un'altra persona un figlio E quindi questi sono i suoi quattro I quattro bambini a cui lui vuole bene E vedete come si intrecciano di nuovo le spighe Le tue grazie di tenerezza Regina dei granai Pensate che bello Tu sei la regina dei granai T'abbiamo portato il grano E tu sei la regina dei granai L'oro I nostri peccati sono diventati Oro, sono diventati grano Li abbiamo portati a Chartres E adesso intreccia per questi bambini Le tue spighe più pure È bellissimo questa immagine E questo conclude il viaggio nostro Il 15 agosto Il tenente Peghi È sul fronte della Marna Per respingere le truppe tedesche Questa volta inglesi e francesi lottano insieme Siamo all'inizio della prima guerra mondiale Raissa Maritain La moglie di Maritain Annota Un mese più tardi Claude Casimir Perrier Che aveva preso il comando della compagnia Scrive alla moglie di Peghi La sera precedente Suo marito sentiva presentire La sua fine gloriosa Tutti quelli che l'hanno avvicinato L'hanno sentito come me La vigilia La vigilia dell'attacco Dell'assalto Aveva stazionato Con i suoi uomini In un vecchio convento E passato la notte Ad accumulare fiori Ai piedi Dell'altare di Maria Il 15 agosto Aveva assistito Alla messa dell'assunzione Durante quella messa Forse si comunicò Ebbe la possibilità di confessarsi Presso quel giovane capuccino Uno dei soldati della compagnia Di cui egli parla Elogiandolo in una lettera Del 17 agosto Lo nomino assistente della mia compagnia Dice Peghi Lui è un tenente C'ha un cappellano Gli dice Ti nomino assistente della mia compagnia E mio cappellano particolare Il 5 di settembre Comanda l'assalto Ed è il primo a morire Con una pallottola in fronte Lui aveva raccomandato Sia a sua moglie Che a questa Blanche Che se lui non fosse più tornato Dovevano andare Tutti gli anni A pregare per lui a Chartres Cosa che le due donne Insieme con La moglie di Maritain Fanno Pochi mesi dopo Gli nasce un figlio Perché aspettava il quarto figlio Da Charlotte Da sua moglie La moglie Fa battezzare i quattro figli Si converte Vanno tutti gli anni a Chartres E quindi C'è questa Forte conversione Nata Dal suo sacrificio Lui è andato a sacrificarsi E ha ottenuto Il suo amore per Maria Ha ottenuto Questa guarigione E quindi Nei blu di Chartres Lo ricordiamo Insomma Ricordiamo Questo uomo Che Che è stato veramente Un uomo Da conoscere Io Adesso che lo conosco Non posso più fare a meno Di leggere E rileggere I suoi versi Che hanno una caratteristica Che Matteo Ha indicato molto bene Sono come i salmi Cioè Si possono Io Queste sono tutte Abbreviazioni Che ho fatto io Perché Lui ripete Un po' Un po' Un po' Un po' anche Da stancare Le stesse cose Con parole diverse Ma alla fine Diventa una preghiera Chi lo capisce Capisce che è una preghiera E che vale molto di più Di altri poeti Magari più Alla page Di Charles Péguy Ma spoiled Alla page Grazie a tutti.